Mi coprì la mente Rapido come un falco impicchiata, un pensiero di odio mi coprì la mente e rimase nella sua ombra fluttuante ed amara per poco. Ma quando vinsi il pensiero di odio, mi rimase a lungo nell'anima l'amarezza della sua ombra. Commento I pensieri sono oggetti energetici che ci colpiscono come le cose. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.